Oggi vi faccio a grigia ingredienti guanciale quello serio per pepe quello fresco la firma mia il pecorino il tonnarello fresco a fuoco lento mettete a tostare il pepe una volta che comincia a schioppettare lo levate e lo tritate se non c'avete mortai a casa le faccio vedere come volete fa prendete un cortelletto e lo schiacciate il pepe va messo da parte che dopo c'è una finita la pasta intanto andiamo a pulire il suo guanciale ricordate deve rilevare la codenna e dateci una pulita sopra perché la c'è da appoggiare tutto la sopra sto guanciale fatelo più doppio solo non vi riesce alla sogna a padella bollente buttate il guanciale come si dice a Roma deve piavo scrocchio raga così se spadella ma voi fatelo qua la pasta che con questo ve bruciate non siete grandi chef come pensate adesso è cotto andamolo a levare lo sapete perché lo so di vite mi devo insegnare una cosa mo andate a mettere il grasso dentro a un recipiente mo ci andamo a mettere dentro la firma mia non cominciare a dire non se fa così io faccio come dico io questa crema deve essere liscia vuole fare un po' il guanciale mettetelo su un tagliere tritate il suo guanciale guarda se è riuscito a fare questa cottura rosso dentro e caramellato fuori mi raccomando deve essere bello tritato perché dopo ci vado a saltare pure la pasta con questo buttiamo la pasta fresca questa è fresca ricendiamo sta padella e metteteci l'acqua dentro di cottura perché mo andamai a risottare lo so che mo cominciate a di cipar vino non cipar vino io non ce lo metto non ve scordate io la faccio come ne vado a fare prendete l'olio del guanciale di prima e finite da risottarla mo spegnete e fatela un attimo raffreddata buttate il guanciale che avete tritato mo vi faccio vedere il tocco magico guarda che roba si gioca compa mi fa mai creme pure sulle grifie mo ce lo metto il pecorino al porvero vi ricordate il pepe che abbiamo fatto prima? andiamo a chiudere con il guanciale vuole fare la grigia? ecco come si fa e mo la massaggia ma sarà bella in crema qua mi avrebbe proprio da di di mortacci mia di mortacci mia che faccio regà la prossima ricetta compa ciao 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 Grazie a tutti.